Sto lavando il piatto, non ti permette di dirmi quelle parolacce, maiale Ma che parolacce? Volevo dirti, volevo dirti, ma all'educato mi è riuscito un maiale Va bene E salve a tutti amici Mangioni, bentornati su Matme Nemiche Salve a tutti Let's go up di Overcooked Allora, panini Oio e piatti Carne, taglia Io, io, quindi mettili vicino, vabbè Se fai così ci vuoi mettere una vita E calmati, mamma mia, calmati Allora, formaggio fatto, piatto Una carne E due carne, perfetto Adesso vediamo qualcosa, occhio che cambia adesso tutto E vabbè, adesso cambierà tutto, che ti do di? Eh, lasciamo che cambia Ok, formaggio e car... Ecco, ottimo E quindi? Niente, bruciano Ma come, madame, ma che stupidata è? Lo immaginavo, perché ho visto che questa è una... Sì, ma così è una stupidata, almeno che compaiono dall'altra parte Che facciamo, quindi? Eh, non lo so, ti do le cape Tiene le carni I piatti comunque devi averli tu, perché... Sì, infatti, i piatti li tengo comunque di lì, ma... Questo qua ti servirà dopo Tiene le carni, vabbè, io, boh Eh, devi, prima che cada, prima che scenda, devi togliere Capito, ma non ha senso Eh, lo so Eh, dov'è, dov'è l'estintore? Dov'è l'estintore? Te l'avevo messo sul rullo Non c'è più È qua, è qua No, dov'è? No, non me lo fa prendere Non me lo fa prendere, vabbè, senti La carne, toh Ok, un panino è fatto E uno l'abbiamo fatto Basta per fare una stella Vabbè, adesso tocca il nuovo te Eh, però tu... Eh, comunque tutto che brucia Eh... Dammi una carne, intanto Ah, no, la prendo io Magari se nell'acqua si disinfiamma No, non si disinfiamma Taglia questa Devi lavare questi, eh, tu Sì, va bene Taglio quella, te la do Una così riesce a cuocerla e facciamo quello Mi serve una lattuga tagliata Eh, io non posso... Eh, dammela, che la taglio io, però intanto tu Tra l'altro si possono lanciarle con Eh, lattuga, lattuga, bravo Bravo, ah, giusto, è vero Quei lanciarmela da lì Perfetto, se riesco a... Se mi dai una carne cotta Siamo a posto Eh, la carne cotta sta arrivando Ok, ottimo Lo do, lo do Yes, ok Ottimo Poi uno con solo carne Adè che adesso riesci a... Sì, infatti Ok, perfetto, finalmente Ok Eh, ma ti conviene togliere la roba dal fuoco Perché altrimenti brucia di nuovo Mi serve uno con solo carne E devi lavare i piatti Sì, lavo i piatti Ma togli le pentole bruciate Che poi ti parte di nuovo il fuoco Sì, tolgo le pentole bruciate Però dammi... Devi darle a me Eh, devi darle a me Oh, madò Non me le lascia Oh Cioè, non me le lasciava Guarda che... Eh, lo so che non le lascia Oh Ok Prendi la pentola che è la mia Ok Eh, carne A cuocere, vai Metto una Vediamo se... Dammi qualcosa da tagliare Già l'ho finito il tempo Sì No, vabbè, ma tanto mi sa che riusciamo a farne uno Cosa vuoi? Io qua al formaggio Eh, tagliami tu le cose dopo Tanto adesso... Eh, ma io non ho... Guarda, adesso lo faccio giusto in tempo a... Oh Ok Giusto in tempo a far questo Poi cosa devo metterci? Formaggio? Niente, senza niente Facciamo quello con formaggio e lattuga Dai Dammi una lattuga Ah, ok Di sero Dammi una lattuga Dai Ah, scusa, mi pensavo di averlo scritto Niente, si capito Ah, io Pensavo di averlo messo Cioè, ma io me... Ah, scusa Stavo guardando tech cosa facevi Eh, vedi, dobbiamo far di più È colpa tua Colpa mia Perché... No, è colpa mia Ma tanto gli hai dato comunque il... Mi avessi dato la lattuga Facciamo il puntencio No, perché non cambia No, non cambia Cambia, costano di più Cambia che dovevamo farli in ordine Dovevi far bruciare tutto tu No, eh... Sì, è perché tu lo sapevi Che bruciava tutto, vero? Vai, tieni i piatti Formaggio? Ma il primo non è col formaggio No, ma è tu che mi hai dato il formaggio Quindi... Ah, ok Non sapevo di averti dato il formaggio Vai, 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 vai Perfetto Voilà La padella può restare tranquillamente qua Beh, non c'è se niente Ah, ok Uno dato e due dati Ok No Poi... Vai, 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 vai Perché io non posso far nulla No, lo so Era lui E diceva il gioco Aspetta, vai a prenderti qua Mamma mia Quasi l'ha lanciata sul tagliere Però Ahia Tieni, cuoci Cuoci, bimbo Cuoci, bel bimbo Tieni, tieni, cuoci, bel bimbo Grazie Prego, figurati Ok Allora, uno mi serve con lattuga E l'altro mi serve col formaggio solo Ok Ti ho messo... Ti ho messo questi qua a posto, eh Ok, mi devi tagliare un formaggio però Formaggio, ok Quello di giro, altrimenti lanciamene uno Toto, tieni Ma cosa fai? Ma non è facile, ok Ah, lo so che non è facile Eh, devi tagliarmi anche le carni Allora, un formaggio Ok, mi serve il piatto Benissimo Questo è fatto No Poi mi serve un altro formaggino No Tieni Oh, no No, ho fatto caderla Dammi un'altra carne Io devo tagliare questa L'attuga, devo tagliare il formaggio Aspetta, aspetta Ah, te lo do io Eh, eh, dammi la carne Sì, sì, sì Ok, dammi To Bravissimo Te ne do una, tanto mi sa che Sì, sì Tieni Vai, vai, vai Poi ti viene la carne Eh, lo so, ma volevo prendere questo piatto tranquillo Qua gira una carne pronta, eh Cosa ti serve? Formaggio Ti lava i piatti Mi servono piatti Ok, questo è pronto Non ti incazza Tieni Questo è anche pronto Mi servono carni Cotte Eh, bisogna cuocere carni Perché sennò qua Sì, sì, allora lanciami le carni Che le taglio Tieni Guarda che lancio Tieni Oppa, guarda che precisione Guarda lì Precisione Tieni il piatto da lavare Tocco Eh, no, però perché me l'hai data in padella? Eh, vabbè Cambia ancora la tua padella Eh, sì, no Eh, perché perdo tempo Sei proprio Vabbè, che perdi tempo Eh, no, non perdo tempo a cambiare padella Eh, no Non perdo tempo Dai, 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 dai Dai Ok, dai Ok, perfetto Piatto Poi Un pane Un pane Un pane Quella carne è pronta Mi serve un formaggio Mi serve un formaggio Mi serve un formaggio Eh, ti lanciamo che Mi serve un formaggio No, mi sa che devo tagliarlo io ora Eh, sì, tagliarlo tu Ok, riusciamo a fare solo quello Dai, bon Fatto Ma non lo sappiamo ancora che Tanto so già che sono tre stelle Dici? Sì Ah, hai voglia Da 0 a 3 6-6 6-6 Non è ancora il boss Ma donna, raga Ma non finisce più sto mondo Chef, mi sentite? Chef Il pane malfermo sta distruggendo i cancelli Abbiamo bisogno di voi, subito Tornate in castello, amici miei Correte Il tempo è tiranno Come mai prima d'ora Il pane malfermo vuole radere al suolo il castello Dovete spingattare A più non posso riempire di calore quegli stomaci vuoti Avete conoscenza e ricette per farlo E la vostra coordinazione non ha pari Date il massimo Per il regno delle cipolle All'attacco Eccoci Quindi sarà il final level Mi sa Che dobbiamo fare? Insalata Vai, vai, insalata E che dove sono gli ingredienti? Ah, ok Ok, come il livello di Il boss in 15 minuti È il boss questo Raga, non sapeva Cioè, così A caso il boss Va bene Pomodoro, taglio io i pomodori Tu tagli al resto Allora, pronto pomodoro Piatto pronto Piatto ricco, mici, ficco Ma dove bisogna darlo? Non si può dare ancora Boh, vabbè Io taglio No Cosa serve? Un pomodoro E Tu tagli al cetriolo Perché ne l'hai messo lì? Ma è perché tu ne hai messe due fuori a caso Cioè Ma va No, chi l'ha messa lì quella? Chi l'ha tagliata? Dimmi Eh, non risponde Eh, certo Furbo Qua bisogna anche usare l'estintore Che palle Ah, ecco qui Adesso è aperto Vai, vai Dai quello Io do quello Come l'hai aperto? Ah, c'è il pulsante Eh, no, guarda E questo cosa fa Boh, non si sa Vabbè Bravo, bravo Hai stato bravo Allora, prepariamone due per volta Allora, io preparo il primo Io preparo il primo e il pesce Preparo gambero e pesce Tu prepara gli involtini Eh, gambero è da tagliare comunque Ah, l'ho tagliato Ma è da dar così? Eh, sì, sì Ok, io taglio anche il pesce Tu fai l'involtino No Ok Ok, gambero è pronto Il pesce mi serve anche Però prima dobbiamo andare quello Se no, aspetta Hai dei altri piatti Qua Eh, no, infatti Però dobbiamo andare quello Se no, non possiamo prendere gli altri piatti Do questo E Questo E ci serve Ok, bravo Piatto, 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 piatto Compari, piatto, compari Però se non ci danno i piatti È un po' difficile qua Dai Niente Che c'è il pulsante? Oh, eh, non va Aspetta Perfetto Hai Ok Io faccio il pesce Io faccio il pesce Tu fai l'involtino Poi c'è bisogno di pesce Ci sono troppi pochi piatti Sì, sono pochi Pesolino Devo aprirmi il coso però Ah, qua c'è, aspetta C'è il fuoco maledetto Eh, vabbè Ma allora siete schifosi Tieni Bravo Toglio quel fuoco Toglimi Non potevi togliermi anche quello Eh, no, eh Eh, no, eh Non potevo Non potevo Morivo ultimamente Morivi No, non è che morivo Però mi si bruciava il risotto Allora Eh, sono bloccato Tranquillo, faccio io Che bisogna fare? Ma prendi il piatto Per favore, prendi il sintore Aspetta Ah, mamma mia T'ho aperto, cosa vuoi? Madonna Io veramente, cioè Ma veramente lo devo dire io Ma zitto, va Che non sai neanche quello che fai E parli E parli E ancora parli Io lavo il piatto Ma posso che aiutarmi Aprire Sto lavando il piatto Cosa vuoi? Cioè non fai niente Sto lavando il piatto Sei lì a cincischiare Come? Sto lavando il piatto Non ti permette di dirmi quelle parolacce Maiale Ma che parolacce? Volevo dirti Volevo dirti Volevo dirti male educato Mi è uscito un po' male Va bene Non so perché, Rai Mi volevo dirgli male educato Ma mi è uscito così Sa, fai qualcosa Oppure continui a cincischiare? Sì, ho l'estintore Ancora Fai il pollo tu Io faccio la pasta Fai il pollo Faccio la pasta io Eh, la pasta la sto già facendo io Perché tu non fai niente Non sei già un pollo Tu hai ragione È vero Devo cuocere il pomodoro Io sto cuocendo il pomodoro Tu fai quello dopo Io faccio i gamberi La pasta ancora Ma non c'è un'altra pentola No, c'è solo quella Ah, c'è l'altra pentola C'è in alto a sinistra Non si vede però Infami dietro il coso lì Io sto facendo il pomodoro Per la pasta Prendila tu Qua c'è il pomodoro Io poi devo fare il gambero E il pesce in padella Eh, faccio il gambero in padella Dove sono i piatti? Ah, sono laggiù Io faccio le cose in padella Dov'è l'estintore? Ah, è qua Casino sta succedendo qua Ma c'è solo il piatto C'è solo un taglierino No, tu ci hai messo la pasta sopra Il taglierino, giustamente Io ti cuocio il gambero E pesce in padella, eh Però bisogna mettere il pomodoro Se no non ho il coso pronto qua Ok, qua Ok, io tolgo i fuochi Devo togliere il fuoco Ma non ti permettere Ma ancora Ma cosa vuoi? Sei recidivo, eh Sei recidivo Ma hai messo le cose a... No, le hai messe ovviamente Eh no, io sto vedendo i piatti Stavo togliendo il fuoco Sto facendo tutto Sì, tu stai facendo tutto Sì, sì Allora Tu lasci le pentole la metà Allora, poi le patate E io ti faccio la pasta Bravo L'ho già fatta la pasta No, no, no L'ho già fatta la pasta Mi dai una mano Mi dai una mano Aspetta che devo mettere Se non riesco a togliere qua L'ho già fatta la pasta Devi solo cuocere un pesce in padella Fai un pesce in padella Faccio un pesce Tu non dici cosa fai E infatti non capisci poi cosa stiamo facendo Perché non sei aggiornato Il pesce l'hai tagliato, no? Sì, è lì, è lì, è lì Vabbè E l'hai in alto a sinistra Ah, bravo Eh, dillo Mettilo in padella, no? Ah, non sapevo che ce l'ho metto in padella Eh, no Vado a prenderli E togliti Eh, fuciva Aprimi cancello, aprimi cancello, aprimi cancello Ma io devo fare le cose subito Mentre quando ti chiedo di fare le cose Accendo perché tu sei d'intraccio pure Ma io sentito il traccio Ma non lo vedi Ah, ok, metti dentro Metti dentro la pasta Metti la pasta Vai a darlo Vai a darlo Io ti apro Vai a darlo Vai a darlo Vai a darlo Dallo prima che si incazzi Uh, al pelo questo Al pelo, al pelo Al pelo bellissimo Io taglio le carni Taglio due carni io Ok, una carne e le metto a cuocere Tu fai le carni Cioè io faccio le carni Cioè tu fai le carni Cioè io faccio le carni Allora, io vado a prendere Chi fa le carni? Fai tu le carni Ok, faccio le carni Ne faccio anche la terza Vedi già pronta E non ci pensiamo più Ma la smetti Allora, che stai facendo tu? Eh, primo panino Dov'è il pane? Io procuro i pani Tu fai i piatti anche E taglia gli ingredienti Io procuro i pani Manca il formaggio a questo È già pronto Bravo, bravissimo Ok Occhio che ho c'è in una Che brucia Ah, quindi c'è da andare a dare, no? Eh, certo Bravo Ai, u, ai, u, a, i Ok Questo qui è già pronto Serve, serve il pomodoro No, il pomodoro no Ok, scusa È questo? Piatto? Piatto, piatto Serve l'insalata Carne, pane Vado a prendere il pane Metti l'insalata Ok E cosa serve qua? Formaggio Formaggio Poi c'è bisogno di un panino Ah, prima, bravissimo Vai, uguale Il pane c'è già Comodoro Prendo il piatto, lo lavo Il pane, la carne c'è già, eh Comodoro a posto L'insalata È a posto Aia Carne Perfetto Carne, pane È a posto Oh, siamo stati bravissimi stavolta Oh, pomodoro Ok, perfetto Opa là Fatto Prendo il piatto Bene, burrito Oh, burrito Allora Burrito Oh, ma c'hanno fame Sti panni, eh Oh, no Oh Ho detto Oh, no Qua sono Hai fatto Lui aveva povero Di aver fatto qualche casino Lo conosco Eh, quando fa quello Oh, no È perché ha combinato qualcosa Riso I risi Bravo Metti i risi Qua la carne è già pronta Quello con la carne è già pronta Quello col fungo Anche qua Il riso è praticamente pronto C'è il piatto A posto Ci sono Il riso è fatto Ok, dammi quello col fungo Qua c'è il riso Ok Non so perché mi tolto il piatto lì Eh, perché così lo faccio qua Oh, no, il fungo Io veramente Ce la facevo anch'io Che dire Ce la facevo anch'io Sì, ce la facevi anche tu Sì, sì Ce la facevi anche tu Faccio un altro riso Un è pronto, eh Dove dobbiamo darlo? È qua a sinistra Ok, allora lo do Vado a darlo E questo qua Devi metterci solo Sì Il pane Perché continui a prendere quello? Non riesco Ok, vai Per divertimento Non so perché Continuo a prendere quello Secondo te Ho anche la pizza insieme Ma siete scemi Guardaci un panino lì Vai via Farina Mi fai Vecchio guardone No, la farina non ti serve Mi tagli questo Certo Hai visto che è bravo E ti taglio anche una carne Ti tiro di più Lasciamela Ok, ti taglio tutto Avevi bisogno di me Sì, sì Ti taglio tutto E dove te li metto però? Eh, lascia lì Io adesso li prendo qua Ok, perfetto Tieni e tieni Poi Io qua devo fare La pizza Ma non ce l'impasto Ah, ce l'ho lì Uh Ok, ce l'ho lì L'impasto Con la pizza Ah, ok Questo qua è pronto Il problema è che bisogna lavare anche i piatti Devo lavarli io, mi sa Allora, l'impasto mi serve anche pomodoro e formaggio Faccio già un pezzo di impasto Se qua stanno cuocendo I piatti Allora, io lavo i piatti Tu finisci gli impasti Gli impasti Gli impasti sono a posto In realtà Ah, no L'impasto della pizza Manca quello lì Col pomodoro E poi manca l'altro Questo qua è finito C'è da fare Adesso lo do Adesso lo do E questo qua pure Ok Qualcosa manca Mi piace la salsiccia Metti in forno Io lavo il piatto Che team Che team Ragazzi Che team Cioè veramente Niente Stava solo tanto più quello Finisce E lo do Metti Lascia il piatto Ah, prende più Va bene Mi sa che è bon Perché 4 minuti Di solito L'altra volta Stavamo finito Con un po' di minuti Oh Che succede? Ho messo in forno Ok Non l'avevo visto lì Non me ne ero manco accorto Bon? No? No, ci sono le torte adesso Oh Si deve fare anche il dolce È il dolce Giustamente Questi sono dei bidoni Sono Cioè mangiano come I piatti Io metto farina I piatti Lavo intanto i piatti Tu metti tutto Mi danno farina Anzi l'ho aperto io Niente Io metto i piatti Lavo i piatti Uofa Mi passi le uofa Adesso te le posso Fammi fin lavare tutti i piatti Così non ci passiamo più Due E tre Perfetto Allora Gli uovi Anzi L'ho preso già io l'uovo Anzi no Non l'ho preso ancora Eh ma te ne devi prendere due Se mi spingi via Non riesco a prenderlo Faccio io va Capito che qua Lascia 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 Che lo metto dentro Lascia Eh togliti Beh Cioè Vivo veramente Poi cosa serve qua Dove si mette già nel forno No sulla padella E la padella dove sono? Eh lì Aspetta Lì qua 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 Ah tu non l'ho vista Ok questo è in padella Quello invece va in forno Manca un cioccolato Un miele Ce l'hai? No ti ritaglio No Ti taglio il miele Ti taglio il cioccolato E te li do Tranqui tranqui Ma ce l'avevo già il miele Ma tanto dobbiamo fare un altro Ah perfetto Allora tieni Oh te l'ho già inviato là su Sì che figo Va allora faccio così Molto più comodo Eh mi sembra anche un uovo Tieni Perfetto Questo posto C'ho io i piatti Quindi lo porto io No E io quello lì non riesco a prenderlo Come non riesci a prenderlo? No Oh cavolo Bug Bug Ah quei ti va Ce l'ho fatta Mangiate Creature viscine Ok Poi quello lì in forno va Mi serve un uovo sai E quello lì davvero in forno L'hai già messo? Eh no Ma te l'ho dato l'uovo È lì Ma sei pirla poi Guarda lì Ho capito Ma tanto l'altro serve comunque Ma guarda che sei proprio eh Mi stai dando un altro cioccolato Cioccolata 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 tiene Già pronto Vai È arrivata lì Che fai? Allora Bisogna metterlo in forno quello Mettilo in forno Mettilo in forno Veloce Che se si incazzano Non abbiamo fatto incazzare nessuno finora Vorrei mica iniziare adesso Eh Ho capito Ok È l'altro in padella È l'altro in padella Adesso lo facciamo Io intanto porto questo Se no si incazza Tu prepara intanto quello Prendi farina e Ok Questo qua Se no si incazzano Si incazzano quelli Ok Quello in padella lo porto Sì ti prendo l'uovo No prendilo tu Io ti taglio gli ingredienti Porto questo Se no si incazzano Aspetta che devo portarlo Ok Prendi l'uovo Io ti do il miele La carota ce l'hai già? No la carota non ce l'ho Ti do questo La carota dov'è? Qua Non credo Vabbè oddio Vediamo Tieni la carota Te la lancio lì Te la lancio lì Prendila Ok Io intanto lavo il piatto E vediamo se riusciamo Dai 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 Dove deve andare in forno? Vabbè credo che comunque abbiamo fatto tre stelle No non ce la facciamo Vabbè dai Si è arrabbiato Ma dobbiamo farlo comunque Quindi uguale Non è che ci fosse così tanto tempo comunque Voilà Fatto così Di botto Neanche una scena finale Nell'uno esplodeva tutto Ma invece pum Niente Ben fatto Ben fatto miei cari chef Con la forza della collaborazione Avete di nuovo salvato il nostro regno Siete riusciti a saziare il pane malfermo In fondo quei tipi avevano un cuore tenero Vabbè Quindi La storia Siamo tutti i vostri debitori Guarda il cagnolino che mangia il pane Fin Fin Bon Hai finito Così Bon Va bene Va bene Ci dovrebbe essere un livello che si dovrebbe essere sbloccato Perché io l'avevo visto che mancava Eccolo in fa No No È vero Niente C'è la casetta Andiamo Che bello Bello Nuova partita più Buon Vediamo un po' I nostri cosaggiosi eroi Benvenuti Ora che la pace è tornata nel regno delle cipolle Siete liberi di girare lungo e largo nelle nostre terre e nello spazio Kevin Che ne dici di metterci a leggere un buon libro? Grrrr No no Non preoccuparti Un semplice romanzo Non intendo leggere altro per un po' Sì perché tutto ci ha iniziato perché ha letto il libro No niente Buon Vabbè Se non avete recuperato gli altri episodi andate Ce ne sono una ventina Quindi divertitemi E noi ci vediamo alla prossima serie Alla prossima serie Alla prossima serie Let's go Che è Chissà cosa sarà Mi raccomando Seguite gli altri video Nelle descrizioni E nelle info Mi raccomando Ciao ciao Mi raccomando 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 Grazie.